Ciao ragazzoli, ben ritrovati in questo nuovissimo video, siamo ritornati sulla Parkour Pyramid, quindi mi raccomando supportate il continuo di questa serie lasciando un bel mi piace, a 10 mi piace uscire al prossimo episodio, vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, anche perché più del 60% di quelli che guardano i miei video non sono ancora iscritti al canale, quindi mi raccomando sapete che cosa fare, detto ciò entriamo subito in partito. Nello scorso episodio ci siamo lasciati in questo punto qua, guardate, proprio qua così, e dobbiamo andare avanti, perché ragazzoli ne abbiamo ancora parecchio, ma parecchio parecchio di mappa da fare, qua invece vediamo un po' dove andiamo, ok saliamo su, qua spawnano dei kart, oh, e io lo prendo, e io lo prendo, dov'è che mi porta? Ehi, non mi fare male però. Cosa c'è scritto? Danger, danger perché, oh, ma sei serio? Questa roba mi avrebbe ammazzato. Allora, vediamo un attimo, perché mi sa che l'opzione più plausibile è quella, esatto, di passare da questa parte, no, ho sbagliato, vabbè posso passare di qua, easy, dicevo, passare di qua, esatto. Oddio, 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 oddio un attimo dove ci porta ho paura di saperlo in realtà se devo proprio essere sincero quindi penso che lo lascerò andare ah beh dai abbastanza easy in realtà benissimo cerchiamo solo di capire appunto dove andare in questo momento quindi in poche parole da questa parte poi di qua e poi qua sopra giusto poi qua sopra e poi ah ok dobbiamo salire da sta parte buon perfetto no sbagliato il parkour sulle canne dal sucre pam 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 ok tac e adesso ah da questa parte ci abbiamo le stupendissime liane pam no no l'ho sbagliato non importa lo andiamo a rifare qual è il problema secondo me che è una bella rincorsina esatto ce la si fa abbastanza easy ok adesso da sta parte tac oddio non sempre i livelli sono super capibili eh diciamo in questo modo saliamo di botto saliamo di botto che figata poi se tocco l'acqua muoio uh l'ho rischiata eh in effetti sarei potuto morire sarebbe stato abbastanza divertente perché pensate se mi fossi dovuto rifare il livello da capo no penso che probabilmente mi sarei messo a piangere no scherzo sarei comunque esploso probabilmente guardate c'è la nostra isoletta di partenza vuol dire che siamo comunque abbastanza lontanucce in teoria tecnicamente alla fine non dovrebbe neanche essere troppo troppo lontana in realtà ma devo soltanto cercare di capire dove andare adesso perché sincero non ne ho idea probabilmente su di qua da qualche parte ma come ci arrivo ok facendomi il parkour da sto lato abbastanza easy dai saliamo da sta parte ok perfetto ce l'ho azzeccato perché ogni tanto ho paura sinceramente di sbagliare oh no di sbagliare magari a fare tipo le mie considerazioni e di finire in un punto sbagliato dai ok perfetto no no che parli parkour col ghiaccio no no porca miseria facciamo tutto di corsa esatto di corsa ragazzi ricordatevi è la soluzione migliore andiamo di slime block certo che andiamo di slime block andiamo da sta parte non ci credo sbagliato per favore non sbagliarlo più perché perfetto ok proviamo da sto lato prima non mi sento di buttarmici giù proprio diretto anche se mi sa che sarà così sapete dubito di trovare qualcosa qua di solito si scende oh no e invece è giusto invece è giusto devo soltanto trovare a un punto d'entrata ok perfetto no dai il parkour si è levato all'ultimo che gran bastardo non ci posso credere ok vabbè 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 era fin troppo easy no non ci credo cioè no 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 ma perché lo sto continuando a sbagliare pure vi giuro che è veramente una puttanata non si è tipo facessi una roba del genere mi ammazzo vero che vale la risposta ovviamente è sì allora io direi che lo faccio subito ok tac così perfetto non abbiamo problemi che è sta roba tipo un the dropper oddio ma che è stovoso no ragazzi ma mi fa paura sta roba ma io che cosa diavolo dovrei fare qua dentro scusate non lo so più vado avanti con questa mappa più mi rendo conto che i creatori sono dei pazzi sgravati ma seriamente ma come potete pensare di costruire una roba del genere secondo voi come come è fattibile come cosa per esempio qua devo salire però come cavolo o no ho capito ma dio ma è possibile come salto scusate non penso sia possibile come salto ma c'è la shulker box ok perfetto l'ho fatto non troppissimo l'ho fatto allora tac tac percorso i cactus tattico meno male che hanno messo i carpet perchè no meno male che li hanno messi e no no dicevo meno male che hanno messo i carpet perchè sennò davvero il paracorso i cactus è qualcosa di incredibilmente rompimento di cogli non ci credo non ci voglio credere uh madonna sentissimo non ci posso credere credo se devo rifarmi tutta sta roba e me la faccio tutta di corso no no sbagliata porca merda tac tac ok e siamo di nuovo qua no madonna ma stavo di nuovo cadendo uh ma che cosa mi sta succedendo quest'oggi in questo paracor scusate ma che cosa mi sta succedendo perchè continuo a cadere non capisco è strana questa cosa comunque ragazzi ho deciso che farò questo video leggermente più corto degli altri ok non so penso che alla fine un video di forse dieci minuti esagerando forse qualcosa di meno ma vedi che sono stupido comunque per il semplice fatto che ho deciso che almeno così vi porto un po più di contenuti ok però dovete dimostrarmi il vostro supporto e dimostrarmi il vostro supporto lasciando un bel mi piace quindi ve l'ho detto a dieci mi piace uscire al prossimo episodio quindi insomma sapete che cosa fare allora finalmente sono ritornato in questo punto quindi vi prego oh mio dio grazie grazie davvero qua non c'è niente no dove vado passo qua passo qua sopra sembra l'unica soluzione plausibile poi passiamo di qua di qua e poi e poi mi sa che devo passare da sto lato delle leve oh ho sentito un rumorino ho sentito un rumorino cerchiamo di capire da dove arriva sto rumorino oh aspettate si è aperta leggermente ho sbaglio ah no ah ok si è rivelata tipo la scala qua sopra no non c'ho minimamente fatto caso e però adesso ok da sta parte così 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 e poi passiamo di qua ok oh slime block da un blocco bastarda e invece no ok è stato abbastanza easy questo slime block da un blocco qua occhio perché se cado e ritorno di nuovo la e sinceramente non ho proprio voglia qua l'ho quasi rischiata è quello rischiata ma siamo passati mi cercare di capire dove andare perché sincero ho paura di andare nell'acqua e mi sa che devo andare da questa parte qua sì sì assolutamente fosse andato nell'acqua ve lo dico io sarei morto ma 100 c'è no che culo che culo mi fa ritornare da qua uh per un attimo mi ha preso male per un attimo vi giuro su dio che mi ha preso malissimo ok siamo scesi però se tocchiamo l'acqua ricadiamo quindi ah ok c'era il barbatrucco c'era il barbatrucco no 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 ho sbagliato vabbè che cazzo era ora il problema del poco è che dà fastidio cioè oddio mi fa male quando mi tocca però a parte quello è semplicemente un fastidio e basta tipo adesso vedete non vedo bene e quindi non so di preciso io dove cavolo stia andando tipo qua o devo salire fino in cima alla torre cosa devo fare ok no ok forse no l'opzione era semplicemente quella di scendere lì abbiamo completato questo livello oddio ma c'è uno slime block gigante ciao oh mio dio quanto sei bello comunque ragazzoli penso che per questo video possa anche essere tutto abbiamo fatto giusto questa leggerissima parte quindi appunto come vi dicevo ho fatto un video abbastanza cortino più che altro anche avere un fattore di tempo che se non riuscivo a portarvi l'episodio tac intanto comunque sto andando leggermente avanti con sta roba ma che cavolo è sta roba ah no voi siete voi siete pazzi siete fuori di testa creatori di questa mappa siete fuori di testa ma non ha senso comunque ragazzoli niente mi sa che ci fermiamo proprio in questo punto qua adesso beh nel prossimo episodio non so bene di preciso dove ripartiremo no però io questo salto lo devo fare perché mi dà troppo fastidio ha visto basta impegnarsi no e ho sbagliato dicevo basta impegnarsi e le cose si fanno vi chiedo 10 mi piace sono veramente pochi quindi dai insomma siamo praticamente quasi 3.000 dieci persone di voi non possono lasciare un bel mi piace io dico proprio di sì finalmente che parlo sto anche andando avanti sono ricaduto quindi pazienza tornaremo poi da qua ragazzoli vi ringrazio per la visione spero che questo video vi sia piaciuto è stato così vi ricordo di iscrivervi se non è ancora fatto noi ci vediamo in questo video ciao ragazzi